Buon pomeriggio dalla redazione di Florence Multimedia in studio Damiano Fedeli. Cominciamo con la A1 dove in direzione Firenze ci sono adesso 7 km di coda per un incidente da poco avvenuto fra Monte San Savino e Arizzo. Sempre in A1 lo svincolo di Firenze in pruneta, chiuso per lavori, viene riaperto provvisoriamente per il fine settimana, dalle 14 di oggi fino alle 6 di lunedì. Ancora in A1 code a tratti per traffico intenso fra Firenze e Scandici e la variante di Valico in direzione Bologna. In A12 in direzione Livorno code a tratti fra il Bivio A15 e Carrara. Passiamo a Firenze oggi alle 21 partita di Coppa Italia allo stadio Franchi fra Fiorentina e Cosenza, dalle 15 provvedimenti su sosta e circolazione nella zona dello stadio. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione fra Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!